Allora, innanzitutto stiamo parlando con... Matteo Tranchellini, faccio post-produzione fotografica e illustrazione 3D, ho uno studio a mio nome a Milano da 15 anni. Perfetto, è la prima volta che sei qui in giugno? È la prima volta che sono qui in giugno. Bene, allora ti chiedo, lo slogan, small is the new big, quindi il piccolo e il nuovo grande, cosa ti fa venire in mente? Sicuramente l'evoluzione del lavoro negli ultimi anni, che è in questo senso, nel senso che storicamente è superlavorato per le grandi agenzie e in realtà dagli ultimi 5 anni c'è stata un po' un'inversione di rotta e le campagne importanti, i clienti importanti sicuramente hanno migrato, adesso in realtà è molto più piccole. Per questo perché pensi che siano più flessibili? Cosa hanno di più? Sicuramente un rapporto più diretto. Al di là dei budget forse più ori, non più clienti, no? Al di là dei budget secondo me è un rapporto più diretto con le persone operative, per cui il cliente forse si è reso conto che non ha più tanta voglia di pagare, il tavolo di 15 persone, tutti i subalterni che ruotano intorno. Volete un rapporto diretto. Esatto, e per cui con meno costi, una struttura più snelle, avere un rapporto diretto col creativo, l'account spesso è... Che pulito, fresco diciamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.